Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo unboxing Un nuovo capitolo di Playjockey Editor Il mio sponsor che comunque mi fa sempre molti molti regali E come mi aveva già preannunciato mi ha inviato un microfono professionale ragazzi Un buon microfono anche perché è quello che state sentendo Ovviamente dovrò ancora riuscire a settare bene tutti quanti i passaggi Però a me basta già il fatto che a mezzo metro dal microfono mi si senta benissimo E io già sono contento così Però poi riuscirò a settare il tutto in maniera più diciamo conforme al microfono ragazzi Anche perché è veramente un bel microfono Sono veramente entusiasta di questo microfono Il video del glitch dei soldi l'ho realizzato anche con questo microfono Quindi penso che la differenza si senta soprattutto Quindi che dire ragazzi sono molto contento Ringrazio molto Playjockey Editor per questo microfono Questo microfono ragazzi come ho già detto è molto professionale Adesso non sto qui a dirvi tutte le caratteristiche tecniche Se volete saperne di più contattate Playjockey Editor Se avete bisogno di un microfono del genere Però comunque ho già detto è altamente professionale Ha una membrana che comunque evita di sputazzare sul microfono Insomma poi ha una spugna Ha un treppiedino È veramente bello tutto quello che vedete qui È veramente veramente molto bello Vi lascio alcuni screen del microfono montato Ci ho messo un pochino però insomma l'ho montato Non era così difficile però ho voluto portarvi qualche foto di come era montato Vi ricordo anche di passare dalla pagina Facebook di Playjockey Editor E troverete anche tutti i suoi contatti sotto i miei video Detto questo vi lascio un saluto al prossimo video